Buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere venuti. Oggi abbiamo deciso di ospitare una tappa dell'Insorgiamo Tour e ringraziamo i compagni e le compagne del collettivo di fabbrica GKN per avere comunque accettato il nostro invito e averci offerto la possibilità di avere un momento di confronto su una serie di questioni, una serie di tematiche che chiaramente sono e devono essere al centro del dibattito pubblico. Allora io provo un po' a iniziare insomma a introdurre questo dibattito, questo momento di discussione, qui con me ci sono appunto Dario e Francesco del collettivo di fabbrica GKN, Anna Clara dei centri sociali del nord-est e Gianni come ADL e Cobas e appunto oggi come dire proveremo a appunto partendo dall'esperienza di lotta dei compagni del collettivo di fabbrica GKN a discutere di alcune tematiche. Allora non so se tutti conoscono la storia della GKN e sicuramente dopo di me Dario spiegherà e racconterà anche lo stato dell'arte della vertenza. L'avvertenza che inizia il 9 di luglio dell'anno scorso, data in cui viene annunciata la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio e di conseguenza anche i licenziamenti. Cosa che avviene appunto all'indomani dello sblocco dei licenziamenti, cosa che aveva come dire che dalle parti sociali era stata già vista come una data che avrebbe segnato sicuramente un punto di non ritorno e che avrebbe anche generato una serie di conseguenze, chiaramente cosa che subito si è data in questo stabilimento di Campi Bisenzio. Da allora le compagni e compagni del collettivo di fabbrica hanno avviato un percorso di lotta che è riuscito a parlare a tanti e a tante e che al momento attuale ha comunque allontanato lo spettro dei licenziamenti anche se chiaramente come sappiamo bene le lotte non arrivano mai a un punto in cui possiamo dire di aver vinto definitivamente, ma come dire vanno sempre alimentate. Io penso che sia esattamente in quest'ottica che il collettivo di fabbrica ha deciso di lanciare la scadenza del 26 di marzo un po' per in qualche modo chiamare tutti a raccolta. Questa data ovviamente è stata scelta in maniera non casuale perché come è stato sempre detto da loro l'intento di riuscire a intrecciare percorsi di lotta è una cosa fondamentale. Tutti sappiamo che il 25 marzo è la giornata del sciopero globale per il clima e in quest'ottica appunto si inserisce anche la data del 26 marzo. Noi penso che insomma, qui vedo tra il pubblico tante compagne e compagni, tante persone che comunque nelle loro vite quotidiane comunque lottano nei vari ambiti e sappiamo bene che esistono dei vincoli indissolubili tra i nostri vari percorsi di lotta. Siano essi quelli legati alla giustizia climatica, siano essi quelli sociali, siano quelli legati appunto alle vertenti ai suoi posti di lavoro, siano essi anche quelli legati a quelle questioni transfeministe, alle questioni di genere. E questo vincolo si basa sul fatto che esiste, che come dire, le varie modalità di sfruttamento, le varie modalità attraverso cui il potere in qualche modo esercita sfruttamento sui nostri corpi è appunto legato a un identico meccanismo di governance. E appunto è in questo che poi, ed è partendo da questo assunto che avviene, insomma c'è la necessità e si percepisce la necessità di costruire questa cosa che viene chiamata convergenza ma che null'altro è se non quello di riuscire a costruire un legame tra i vari corpi che lottano. È chiaro che, come dire, noi l'idea di avere questo momento di discussione l'abbiamo avuta più di una settimana, insomma un po' di tempo fa ed è evidente che gli ultimi avvenimenti, quello che sta accadendo in Ucraina, ci impongono anche in qualche modo di discutere e di parlare della questione della guerra. Sarebbe assurdo, penso, in un momento come questo affrontare un dibattito, affrontare una discussione che vuole avere appunto la caratteristica di costruire convergenza senza affrontare il tema della guerra. Che poi, di fatto, a guardarlo bene, è qualcosa che si inserisce perfettamente all'interno dei nostri discorsi. Perché, come dire, al di là poi di tante letture che si possono dare, ma questa guerra cos'altro è se non la contrapposizione fa diversi imperialismi e logiche di controllo, siano esse sulle fonti energetiche o su bacini di manodopero a basso costo, insomma. Su questa questione, appunto, la questione della guerra, peraltro, come dire, ci mostra come anche il nostro bacino, diciamo, lo spazio minimo di intervento, lo spazio minimo di azione, non possa che essere quello europeo. Non possiamo di sicuro accontentarci di vedere come spazio di azione, come spazio di mobilitazione sociale, politica, soltanto, diciamo, il nostro Paese. E questa cosa qui, ovviamente, vale tanto sul tema della guerra, quanto sul tema climatico, tanto anche su quello del lavoro. Ecco, noi oggi, oltre, appunto, a questo elemento qui della guerra e di come il tema della guerra si inserisce all'interno del contesto sociale che stiamo vivendo, vorremmo affrontare altri due temi in questo dibattito, in questa discussione. Il primo è quello delle forme di organizzazioni, ovvero quali sono gli spazi in cui riuscire a costruire l'esistenza e qual è il nesso che esiste tra le reattivazioni sociali e le forme di auto-organizzazione e anche, ovviamente, le forme di autonomia decisionale, tanto nelle fabbriche quanto nei territori. E l'ultimo tema che vorremmo affrontare oggi è quello, appunto, di quali sono le forme della mobilitazione, ovvero come ridare fiato a forma di conflittualità sociale e come uscire anche dalla ritualità di determinate scadenze. Ecco, io non voglio rubare altro tempo alla discussione e lascio la parola a Dario e auguro un buon dibattito a tutti. Grazie. Grazie a tutti e a tutti. Ogni tappa di questo Insorgiamo Tour è un'emozione. E quindi rischiamo di essere repetitivi. Però vi ringraziamo perché è una carica di energia e un'emozione questa assemblea che ci state regalando. Io cercherò di stare più o meno ai punti che sono stati posti. Ovviamente poi se c'è invece volontà di approfondire come sono stati questi sette mesi di assemblea permanente in GKN, che continua, come in dieci anni abbiamo costruito l'idea di collettivo di fabbrica, eventualmente le domande potranno guidarci per non essere troppo lunghi. Però una cosa mi preme dirla. Quello che noi abbiamo fatto in questi mesi sul terreno sindacale ha avuto un'evidente conseguenza anche sul piano politico, politico, sociale, sindacale. Ma nel nostro piano non c'è mai stato un grammo di strumentalità. Cioè noi non è che a un certo punto ci siamo messi in testa che dovevamo trasformare in un'avvertenza generale, collettiva, politica, la nostra avvertenza perché qualche direttrice ideologica ci imponeva di fare questo. Noi abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per provare a vincere quella avvertenza. Ed è stato proprio il cercare di vincere quella avvertenza sindacale che tutt'oggi ci porta ad allargare sempre di più l'orizzonte di quella avvertenza su un terreno politico e sociale. E direi che lo scoppio della guerra dimostra questo. Che cosa sarebbe oggi una manifestazione sindacale come quella che in parte noi chiamiamo il 26 marzo per essere a guardia della reindustrializzazione di GKN se non l'avessimo impostata così? Cioè come una lotta generale di convergenza per un altro modello di società? Che tipo di attrattiva avrebbe per le precarie e precarie di questo paese? Che tipo di attrattiva avrebbe per voi? Che tipo di utilità avrebbe per il movimento in generale? Sarebbe quasi grottesca, quasi ridicola. Perché non è che ameremmo una mobilitazione grande per dire che 500 posti di lavoro nella piana fiorentina vanno salvati quando tutto il mondo cola a picco. Sarebbe stata un'impostazione egoistica e quando tu hai un'impostazione egoistica raccogli egoismo e quando raccogli egoismo non c'è niente che possa salvare la tua lotta. Perché solo nell'allargamento della mobilitazione c'è speranza che quella mobilitazione arrivi effettivamente a qualche risultato. E questo è stato il nodo sin da quel 9 luglio perché noi dopo un primo momento quel 9 luglio in cui lì per lì diciamo la GKN non si tocca, avete usato toccare casa nostra, la nostra famiglia, ci guardiamo attorno e capiamo che questa nostra casa e questa nostra famiglia per essere difesa o parlava a tutto il paese oppure non l'avremmo mai riuscita a difendere. Perché oggettivamente i rapporti di forza che avevamo di fronte erano schiaccianti. Eri l'ennesimo caso di industrializzazione di un'azienda dell'automotive che si sta ritirando dal paese non da oggi ma da decenni, come ne abbiamo viste tantissime, tutte destinate alla sconfitta ed è per questo che diciamo l'unica cosa che ci sentivamo di dire, cioè che noi probabilmente non avremmo vinto ma che se volevamo anche soltanto provare a stare in campo con la lotta dovevamo insorgere. E dovevamo dire non solo a noi ma anche al milione di posti di lavoro persi durante la pandemia, alle reti ambientaliste che ci venivano contrapposte da un articolo del Sole 24 Ore che diceva vi licenziamo perché avete voluto Greta e quindi è normale che licenziamo nel settore dell'automotive. Lo dovevamo dire a tutti i precari del territorio circostante, alle piccole officine che non avevano nemmeno la fortuna di avere la visibilità mediatica che avevamo noi, che l'unico modo per riuscire in qualche modo a stare in campo era quello di insorgere. E subito dopo abbiamo anche aggiunto che per insorgere al contempo era necessario convergere, cioè era necessario far sì che la nostra mobilitazione si arricchisse di tutte le esperienze che avevamo attorno a GKN, perché quando noi diciamo convergenza non intendiamo solo che sommando le nostre forze siamo più forti. Questo è un ragionamento matematico, aritmetico, è qualcosa di più. Cioè noi per stare in campo in questi sette mesi abbiamo avuto bisogno della forza, della solidarietà, dell'elaborazione e della contaminazione di tutte le reti che hanno formato il gruppo di supporto attorno a GKN che sono entrate in fabbrica creando una vera e propria fusione tra territorio, centri sociali, organizzazioni dell'estrema sinistra radicale, ma direi anche parrocchie, misericordie, protezione civile, squadre di calcio che in GKN si sono fuse totalmente in una forma di convergenza che ci ha aiutato ad essere diversi da quelli che avevamo quel 9 luglio, diversi negli obiettivi, diversi nelle convenzioni, nella determinazione, nell'elaborazione. Ecco tutto questo l'abbiamo fatto per rimanere in campo, perché sennò saremmo stati spazzati via. E quindi oggi noi convochiamo una manifestazione il 26 marzo il cui slogan è per questo, per altro e per tutto. Io come operario GKN ho bisogno di quella manifestazione perché cade esattamente in un punto centrale della mia avvertenza in cui nonostante ho in tasca un accordo sindacale molto avanzato, è tutto da vedere che mi reindustrializzeranno la fabbrica, la faranno ripartire, ma allo stesso tempo quella manifestazione è peraltro, perché io contemporaneamente scendo in piazza chiamando tutte le cause, le mobilitazioni, i movimenti di questo Paese a convergere su quella data per rendere più forte me nella capacità di spostare i rapporti di forza e per rendersi anche loro capaci di spostare i rapporti di forza. E quindi quella manifestazione è per tutto e di conseguenza è anche contro la guerra. Ora sappiamo che questo è un processo, quello della convergenza, dove non tutti la pensiamo allo stesso modo, se no non sarebbe convergenza. Però pensiamo anche che per il livello a cui siamo arrivati in questo Paese, di frantumazione sociale, politico, sindacale in cui siamo, l'unico modo che possiamo uscire da questa frantumazione è creare un processo di convergenza dove virtuosamente ognuno, corpo dopo corpo, partecipazione dopo partecipazione, discussione dopo discussione, porti le proprie tesi e che quindi anche la battaglia di detra di noi, anche reciprocamente le opinioni diverse trovino un terreno virtuoso su cui crescere e non un circolo vizioso di frantumazione. La guerra è la cosa più inquinante che c'è, è uno dei processi più inquinanti che c'è, inquinanti dell'ambiente, inquinanti della vita, delle priorità, della testa, della verità ed è anche inquinante delle agende politiche. Noi per esempio credo che oggi dobbiamo giustamente e correttamente riadattare le nostre priorità politiche alla guerra, ma dobbiamo anche stare attenti che la nostra agenda non venga inquinata, non venga inquinata da un movimento per la pace che in realtà sostiene l'invio di militari, come abbiamo visto in alcune piazze, un movimento per la pace che diventi amorfo, cioè che tolga al movimento contro la guerra tutte le ragioni sistemiche che invece stanno alla base dell'8 marzo, del 25 marzo, del 26 marzo. E quindi noi chiediamo a noi stessi, al movimento contro la guerra, di attraversare queste date, di convergere su queste date, di contaminarle, che non ci sia un movimento contro la guerra che si separa da queste date fondamentali, perché in realtà in queste date c'è la lotta contro le radici della guerra. Questa è una guerra che riafferma cosa? Tante cose. Innanzitutto noi chiamiamo guerra ciò che ai nostri occhi è spettacolare e improvviso, ma lì c'è un conflitto bellico che va avanti da anni, c'è un'unica grande escalation geopolitica che ha coinvolto prima la Siria, lo Yemen, che è una guerra che sostanzialmente va a portare sul terreno militare una serie di tensioni che attraverso il quantitative easing, la liquidità facile, hanno momentaneamente sedato sul terreno economico e quindi ora si scaricano ancora di più sul terreno politico militare. È una guerra di regimi in difficoltà, perché io credo che la Russia in realtà, se andate a vedere i conti, sia un paese estremamente più debole rispetto agli altri che sta scaricando sul piano militare tutte le proprie difficoltà. È una guerra di espansione della Nato, è una guerra di lotta tra imperialismi, è una guerra che per procura vede l'estrema destra all'avanguardia dello sciovinismo e della provocazione ovunque, a dimostrazione di quanto perfino nella lotta contro la guerra noi dovremo attraversare le date antifasciste che abbiamo, che ci sono, come il Milano Antifa Fest per ricordare Dax, o il 18 marzo per noi a Firenze ricordo del nostro partigiano Lorenzo Orsetti. Queste date diventano ancora più fondamentali nel riaffermare la lotta contro questa guerra. Ed è una guerra che ti dimostra che il capitale ha bisogno di orientarsi costantemente ai settori produttivi dove è più alto il margine di profitto, non solo la finanza, ma l'industria bellica che sta crescendo non da oggi ma da anni e anche l'industria estrattiva di gas, di materie prime. È una guerra che squalifica qualsiasi discussione di greenwashing contenuta nel PNRR in tutta la propaganda che stanno portando avanti, perché come dicevo è una guerra profondamente inquinante ed avviene dopo un anno dove il fossile ha toccato il proprio picco massimo di record nell'utilizzo alla faccia della transizione ecologica. E quindi per noi, a maggior ragione, il 25 e 26 marzo non sono due date. L'abbiamo scritto oggi in una proposta di comunicato anche alle compagni e compagni Fridays. Usiamo il singolare, il 25 e 26 è una data, una sola. Non c'è soluzione di continuità in queste due date. Noi non chiediamo il rallentamento della transizione climatica in nome della questione sociale, anzi noi chiediamo un'accelerazione di una reale transizione climatica perché non sappiamo quale sia il livello di danno reale che questo nostro pianeta sta subendo. E chiediamo misure sociali all'altezza della transizione climatica. Per cui è impossibile oggi parlare di una reale transizione climatica se non attraverso la riduzione d'orario a parità di salario. Perché il lavoro inquinante, il lavoro cattivo deve cessare e il lavoro buono deve essere ridistribuito in maniera equa, in un lavorare meno, lavorare tutti. Senza queste misure sociali non ci sarà transizione climatica. E ovviamente si tratta anche di parlare di intervento pubblico. Ma qua si viene all'altra domanda che tu ponevi, la questione delle forme organizzative. Per noi il collettivo di fabbrica, la difesa di una democrazia partecipativa dentro luoghi di lavoro, non è soltanto la forma plastica della resistenza che ci siamo dati contro il fondo finanziario, contro la multinazionale. Perché se vuoi veramente resistere a questa gente devi imparare a conoscere tutto della fabbrica. Perché innanzitutto loro non ti verranno mai a dire che sei licenziato. Quando te lo vengono a dire, come a noi quel 9 luglio, è già tutto fatto. Le scorte nei magazzini già ci sono. La delocalizzazione è già avvenuta. E se pensate che basti bloccare i macchinari e le merci, che è un passaggio fondamentale perché noi abbiamo messo i nostri corpi e in GKN da quel 9 luglio non è uscito uno spillo, beh sappiate anche che loro hanno lasciato gli milioni di euro di macchinari e di semiassi per mesi e mesi, se lo possono permettere, perfino quello. Quindi devi darti un'organizzazione capillare per capire tutto quello che ti succede nel luogo di lavoro, anche perché tante volte quando abbandonano i luoghi di lavoro iniziano anche a disinteressarsi dell'organizzazione del luogo di lavoro. Quindi noi abbiamo imparato ad autogestire la fabbrica prima, nella ritirata stessa del fondo finanziario. Però oltre a questo, queste forme democratiche, territoriali, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, sono anche l'unico tipo di rete che noi possiamo preparare per parlare realmente di intervento pubblico per come lo intendiamo noi. Perché è un problema che noi abbiamo avuto in GKN, che a un certo punto abbiamo chiesto la nazionalizzazione, con un problema che è quella che a noi sembra una parola d'ordine quasi tabù, in realtà sono gli stessi padroni che la stanno sdoganando. Perché in Alitalia è avvenuta una nazionalizzazione, perché esiste, non so se la sapete, un'industria italiana autobus che ha maggioranza pubblica, perché la nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena l'hanno fatta, l'hanno fatta anche all'Ilva. Andate a spiegare a queste persone che cos'è la nazionalizzazione. Addirittura nell'Italia l'hanno usata per un ricatto occupazionale e dei diritti devastanti. E quindi noi abbiamo avuto anche il problema di dire che il tipo di ripubblicizzazione che vogliamo noi di settori dell'economia, per esempio nella nostra proposta di polo pubblico della mobilità sostenibile, non può avvenire se tu non ti attrezzi ad avere una forza materiale dal basso di reti, di lotte che si fondano, perché ci possa avvenire una reale ripubblicizzazione. Ecco, noi abbiamo presentato una legge in Parlamento contro le delocalizzazioni, per guardare negli occhi il Governo e per togliergli qualsiasi alibi, ma abbiamo chiarissimo che qua non si tratta di chiedere una serie di norme, una serie di regole, qua si tratta di contrapporre a forza materiale, altra forza materiale. E noi il 26 marzo vogliamo che questa forza materiale si metta in cammino, per questo tra l'altro non la chiameremo nemmeno come, non diremo nemmeno che è una manifestazione contro il Governo, non lo scriveremo da nessuna parte, non per reticenza, ma anche per darci a noi stessi un gergo comunicativo differente. Noi non siamo dentro l'attuale dibattito politico, ci hanno espulso e forse non ci vogliamo nemmeno essere. Noi siamo un mondo nuovo in cammino, perché il cammino per ricostruire effettivamente forme di organizzazione, di lotta, è molto più complesso. Passa per la ricostruzione in alcuni territori di forme di mutualismo. L'altro giorno a Perugia le compagnie e compagni ci spiegavano come sono usciti dalla pandemia con la spesa solidale, prendendo dei terreni, rimettendo i disoccupati a lavorare, ricostruendo un legame con un quartiere popolare, oppure le compagnie miei compagni a Cariati, a Cosenza, ci spiegavano come hanno occupato per mesi e mesi durante anche la quarta ondata un ospedale, uno dei 18 ospedali chiusi, e come di fatto hanno presentato un piano di ripartenza dell'ospedale e parlano in maniera veramente potente di quell'ospedale come se lo possedessero loro. Ti spiegano, noi qua faremo questo, lo faremo rientrare nella rete pubblica. Cioè, se non vogliamo essere travolti, se non vogliamo che tutta questa nostra vertenza, questa nostra attività, spazi come questo che per noi sono stati fondamentali nella nostra resistenza, siano nuovamente sussunti dentro l'attuale dibattito politico, noi dobbiamo, e spero di aver almeno accennato a delle risposte alle cose che ponevi, e poi mi fermo, se no veramente prendo troppo, rimettere veramente in cammino quello che noi abbiamo chiamato una classe dirigente. Noi la classe dirigente l'abbiamo conosciuta, perché abbiamo parlato con i lavoratori della Telecom che ci hanno spiegato nei dettagli come riorganizzerebbero la rete per la digitalizzazione in senso positivo, noi sappiamo come condurremmo la nostra fabbrica, abbiamo parlato con i comitati a Bologna contro le grandi opere, ci hanno spiegato come riorganizzerebbero la città. C'è un livello di competenze e di conoscenza che noi non ci permetteremo il 26 marzo di ridurre a slogan. Potremmo anche fare la classica piattaforma, 5 punti, scuola, sanità, trasporto, il lavoro deve avere, il capitale deve cedere, nazionalizzazione. Non è questo, non è questo, è molto più complessa la cosa. Per questo il 26 so che io scendo in piazza per questo e potrei spiegare per filo e per segno cosa vuol dire per GKN quella manifestazione, so che scendo per altro e so che dobbiamo scendere per tutto. Questo è un po' il tentativo folle che mettiamo in campo il 26. Riuscirà, non riuscirà? Non lo sappiamo, noi siamo sereni, perché l'alternativa era smobilitare, l'alternativa era venire qua, fare un'assemblea magari bella come questa, avere la vostra attenzione, raccontarvi di sette mesi di assemblea permanente, di autogestione di una fabbrica, che è tutto sommato un bel racconto, prendere pacche sulle spalle, farne una questione di prestigio personale e finire lì. Non è questo, non è questo. Sappiamo quanto è difficile la data del 26, in mezzo alla guerra, in mezzo a mille altre priorità, tante forze proveranno a farla fallire, su Firenze noi non avremo la stessa facilità nel coinvolgere la popolazione, perché gli stanno raccontando a tutti che abbiamo vinto, addirittura ci rubano la parola vittoria dalla bocca, e in un certo senso abbiamo vinto, ma non come intendono loro, però ci proviamo, perché non vediamo sinceramente come altro metterci a disposizione in questo momento. Buonasera a tutti e a tutte, e ringraziamo, ci siamo già visti anche a Padova, dove c'è stato un altro confronto con i compagni del GKN. Io vorrei iniziare questo intervento, insomma, partendo da un primo dato, noi questa sera abbiamo ovviamente con i limiti che ci sono, insomma, per tanti motivi, l'orario, il giorno, eccetera, però siamo riusciti a far partecipare, insomma, a questa assemblea anche un certo numero di delegati e delegate della DL, perché riteniamo che sia di fondamentale importanza proprio quello che diceva Dario prima, capire come si può cercare di contaminarci, di fare in modo che le lotte che ci sono nei vari settori possano parlarsi e possano cercare di capire come si possa andare avanti per costruire un movimento che abbia in mente di cambiare veramente lo stato di cose presenti. voglio anche dire che i delegati, le delegate che sono qui presenti questa sera, sono qua con dei permessi sindacali, permessi che noi non avremmo avuto diritto di avere, perché le normative che esistono sui contratti nazionali non prevedono che sindacati come il nostro, pur avendo ampi e ampissime maggioranze, se non a volte anche il 100% in determinati magazzini, parliamo di TNT, FEDESC, parliamo di BRT, parliamo di GLS, parliamo di SDA, parliamo della grande distribuzione da Geox, parliamo del Tigota, parliamo di Ali, parliamo di un'infinità di altri magazzini della logistica dove abbiamo una presenza preponderante rispetto anche a altre sigle sindacali che sono state sempre complici anche delle forme di sfruttamento che c'erano. Ebbene, noi se siamo riusciti a conquistare questi diritti è perché appunto sono state delle lotte formidabili che hanno impattato con un sistema di sfruttamento che ha utilizzato quello che abbiamo chiamato come una inclusione differenziale, utilizzando una forza di lavoro per lo più migrante, facendo credere per tutto un periodo di tempo che tanto i migranti non capiscono niente, per cui se sulla busta paga si scriveva trasferte d'Italia, se non veniva pagata la malattia, l'infortunio, se non c'erano pagate le ferie, se lo straordinario non era pagato. Tutto questo dicevano tanto, tu sai che prendi più o meno 5 euro netti all'ora, cioè vieni fuori, hai fatto 200 ore, prendi 1000 euro. Questo era quello che avveniva in questo mondo, spesso con la complicità appunto, con le strutture organizzative che gestivano questi impianti, che erano appunto le famigerate cooperative, spesso con le coperture e quasi sempre anche con le coperture sindacali. Quindi oggi siamo qua e abbiamo avuto la capacità anche appunto di costruire una narrazione che ha cambiato e trasformato il mondo della logistica portando ad essere un mondo un po' più civilizzato rispetto a quello che era in passato, pur rimanendo sacche molto ancora presenti, di caporalato. Abbiamo visto appunto anche le vicende recenti che hanno riguardato Grafica Veneta, ma non solo, hanno riguardato la grande distribuzione con inchieste che hanno portato ad arresti per un'infinità di motivi, tra cui anche grandi evasioni fiscali, contributive, eccetera, eccetera. Quindi io parto da questo ragionamento e penso che come noi siamo riusciti, assieme anche ad altre sigle sindacali, in particolar modo con il SICOBA, siamo riusciti a costruire questo movimento di lotte in un nuovo comparto, in un nuovo settore della composizione di classe, che è quello della logistica, che è diventata, come ben sappiamo, fondamentale per le forme dell'accumulazione capitalistica di questa nuova era che stiamo attraversando. E appunto grazie a queste lotte siamo riusciti appunto a costruire anche una nuova soggettività operaia, che a tutto oggi c'è la necessità di confrontarci, per questo abbiamo ritenuto importante partecipare questa sera, perché penso che dal confronto anche con questa esperienza assolutamente nuova che c'è della GKN, che è un collettivo che ha alle spalle 500 lavoratori, che si stanno mobilitando, che appunto come ha detto Dario poco fa, qua non è certo, nell'avvertenza probabilmente si riesce a salvaguardare il posto di lavoro, a vincere su questo piano qua, però è altrettanto vero che se oggi noi non abbiamo, non guardiamo avanti, non guardiamo anche a come intervenire sulla questione della guerra, certo, come quando una guerra ti piomba addosso, cosa gli scenari futuri che avremo davanti, chi lo sa, cosa potrà succedere, perché siamo nelle mani veramente, per chi si ricorda il film Il Dottor Stranamore, dove gli scenari erano appunto i pazzi, furiosi, presidenti degli Stati Uniti o della Russia, ex Unione Sovietica, appunto che si contendono e che per qualche follia qualcuno fa partire, premi il bottone di un'arma nucleare, la via fuori la distruzione del mondo, non è che siamo tanto lontani, non è anche da questo tipo di immaginari che potrebbero anche darsi, speriamo di no, però è chiaro che di fronte anche a questo, è chiaro che con tutte le motivazioni che diceva Dario prima, questa guerra non è che nasce oggi a radici profonde, nelle contraddizioni che ci sono all'interno dell'Europa, della globalizzazione, però io penso che quello che abbiamo anche visto, il fatto che anche in Russia, a Mosca vediamo mobilitazioni, hanno fatto più di 4.000, 5.000 arresti perché la gente scende in piazza, perché non vuole saperne, questo è un elemento fondamentale, combattere contro i nazionalismi, questo è un insegnamento, per questo anche la battaglia che facciamo contro la guerra deve essere una battaglia di avere a primo posto il rifiuto del nazionalismo, il fatto di dire noi siamo tutti quanti che apparteniamo al mondo, non possiamo farsi la guerra, ammazzarsi perché uno è ucraino, uno è russo, uno viene dalla Romania o da qualche altro paese, no, questo è un elemento fondamentale, noi dobbiamo assolutamente, anche noi la mobilitazione che andiamo a mettere in campo è fondamentale, abbiamo visto grandi risposte anche, se a volte anche contraddittorie, in tutte e quante le città le città, e bisogna continuare, io penso, speriamo che magari ora del 25-26, magari dubito che possa essere risolta, anche perché non si capisce bene che soluzione si potrebbe dare, però comunque penso che anche questa manifestazione possa avere questi connotati appunto di una battaglia che si inserisce, cioè oggi lottare per condizioni migliori dei posti di lavoro, per combattere contro il caporalato, per combattere per una vita più dignitosa, per combattere perché ci sia una vera transizione ecologica, perché ci sia un rispetto della natura, dell'ambiente, tutti questi fattori qua sono elementi che fanno parte di un'unica necessità di movimentare tutte le varie situazioni, appunto che sono dagli studenti agli operai, all'infinità di altri soggetti sociali precari, eccetera. Questo penso sia lo scopo fondamentale di quello che dobbiamo cercare di mettere in campo quando si parla appunto di convergenza delle lotte. Ce lo siamo detti tante volte anche nelle assemblee che facciamo periodicamente con tutte le delegate e delegati sindacali, dove se io sono lavoro in fabbrica o lavoro appunto in un magazzino o da qualsiasi altra parte, è chiaro posso riuscire a ottenere un miglioramento salariale, posso riuscire a ottenere un miglioramento dal punto di vista dell'orario, delle condizioni di lavoro, eccetera, però poi vado fuori, vivo in un quartiere dove non c'è nessuna possibilità di socializzare, dove vado al supermercato e vedo i prezzi che aumentano continuamente, vedo un ambiente respiro, un'aria che mi fa ammalare, pensiamo solo anche a Padova, Padova è una delle città più inquinate che c'è a livello nazionale, quindi una battaglia contro le fonti inquinanti è fondamentale perché se da una parte miglioro il mio salario, dall'altra mi trovo a ammalarmi per le condizioni che ci sono della qualità dell'aria, così come gli spazi, e qua si inserisce un ragionamento fondamentale, pubblico, privato, questo cos'è questo spazio qua, se non uno spazio assolutamente è un bene comune, un pubblico fondamentale, pur essendo uno spazio che era di privati, insomma, ma è stato occupato, è stato conquistato, è stato trasformato con l'intelligenza, con la capacità, con la capacità di pensare a una socialità fuori dalla mercificazione, fuori dalle logiche del profitto, così come ci sono tanti altri spazi a livello nazionale che sono frutto di questo tipo di scelte che non sono appunto quelle ideologiche, sono scelte concrete, pratiche, materiali che puntano a costruire relazioni vere, che non si basano sull'interesse, ma si basano sul bene comune e collettivo, questo penso siano fondamentali elementi di ragionamento che dobbiamo cercare di capire come si arriva a comunicare, come si arriva a creare quelle relazioni che fanno, danno un senso alla convergenza, che parte però da esperienze concrete, materiali, siamo stanchi di sentire parolai, gente che si riempiono la bocca, magari di gran belle parole che però poi non fanno nulla nella concretezza, non fanno nulla nella capacità di dare un senso, io penso che io ho anche una certa età, voglio dire da tanti anni combattiamo battaglie di vario genere, però se uno per quello che fa non vede il cambiamento, penso che se i compagni della GKPN non avessero visto che quello che stanno facendo ha creato, non è che l'immaginario che hanno creato parte dall'ideologia, parte come diceva Dario da un dato concreto, materiale, tremendamente materiale, che quella lotta era fondamentale per fermare un progetto, che è quello della delocalizzazione, che rovinava l'esistenza di tante persone, aver salvaguardato questa comunità è un elemento assolutamente fondamentale, così come lo è quando nella logistica ci mobilitiamo, blocchiamo i cancelli, i cambios, perché non possiamo accettare che i cambi di appalto portino a ridurre il personale, a cancellare il TFR, a cancellare tutte quelle conquiste che avevamo ottenuto nel corso degli anni. Questi sono gli elementi concreti, materiali, sui quali noi dobbiamo agire e sui quali dobbiamo convergere. Per questo io dico che il 25 e il 26, e sono d'accordo che vanno visti, per chi appunto non è molto informato, il 25 è una giornata di uno chiamato sciopero globale per l'ambiente, insomma contro le produzioni di morte, eccetera. Quindi il 25 e il 26 c'è la manifestazione a Firenze, perché io penso che effettivamente dobbiamo pensare a come rendere, unificare questi due momenti che sono di fondamentale importanza, specialmente anche in questo momento che stiamo subendo anche tutti gli effetti e quello che subiremo è gli effetti della guerra. E quindi io colgo con grande positività questa proposta appunto che il GKN, il collettivo, sta portando avanti a livello nazionale e anche noi faremo di tutto, io penso per essere presenti in tanti e tante, soprattutto anche dobbiamo avere la capacità, per quanto ci riguarda come ADL, di organizzare pulma con i lavoratori e lavoratrici per andare a partecipare in tanti e tanti a questa giornata, questa manifestazione, perché può segnare realmente anche un nuovo inizio di un percorso in cui i movimenti si parlano, pensiamo anche a cosa sta rappresentando il movimento degli studenti di queste ultime settimane a fronte di questa roba abberrante che sono successi, due ragazzi morti che stavano facendo quella che chiamano alternanza scuola-lavoro, che è una roba allucinante, pensare a morire a 17-18 anni perché ti mandano a fare l'operaio in fabbrica, uno è morto durante il tragitto e l'altro è morto perché si è preso una trave di ferro in testa mentre stava facendo l'operaio, ma che scuola è questa? Ma di cosa stiamo parlando? È una roba allucinante, per questo io dico dobbiamo appunto fare in modo che questi movimenti convergano realmente e riescono a produrre anche con un grande movimento un nuovo inizio di un percorsi che possono veramente riuscire anche a trasformare, perché mi sembra una roba fondamentale che stava dicendo Dario prima, che è quella che noi non dobbiamo solo, non è che siamo solo contro, noi siamo contro sicuramente, ma abbiamo la capacità, l'intelligenza, lo vediamo anche nei magazzini, nei magazzini, in tantissimi magazzini, i capi non servono, i lavoratori ormai sono in grado di gestire interamente tutto il ciclo, mettono là delle persone che non servono a un cazzo. Questa è l'esperienza, la roba che abbiamo maturato, è solo una logica di comando e di questo noi dobbiamo essere in grado, quindi abbiamo una capacità così come chi gestisce il centro sociale Guarivolta, chi gestisce tutti gli altri spazi, il Pedro, altri spazi che ci sono in giro per il Veneto a livello nazionale, perché sta alla nostra volontà, capacità, intelligenza di costruire questa che non la dobbiamo aspettare allora X, chissà di quando, qui ed ora, oggi che dobbiamo cambiare e costruire movimenti di lotta e anche di contropotere, di capacità di costruire questo tipo di sperimentazioni che però sono sperimentazioni che ci fanno molto bene alle nostre vite, alle nostre teste. Grazie Gianni, lascio la parola ad Anna Clara. Dopo l'intervento di Anna Clara, ovviamente il microfono è aperto per cui chi altro volesse intervenire, insomma, sui temi trattati o anche ponendo delle questioni che magari sono sfuggite, insomma, alla discussione, è libero, e anzi è molto, cioè, è caldamente invitato a farlo. Allora, anzitutto, vorrei iniziare ringraziando moltissimo, insomma, la partecipazione, vi chiedo un minuto di sincera empatia, perché spero capiate la difficoltà che ho nel parlare dopo Dario e Gianni, però farò del mio meglio, ecco. Io vorrei collegarmi un pochettino a quello che diceva inizialmente Ruggero, cioè vorrei provare a ragionare lungo un po' i tre assi di discussione che lui ha suggerito. L'uno è, naturalmente, il modo in cui il tema della guerra entra inevitabilmente e necessariamente all'interno di qualunque discussione vogliamo affrontare oggi, che sia essa politica o di qualunque altra natura. C'è poi il tema appunto delle forme, di organizzazione, dei modi in cui decidiamo di stare insieme e dei modi invece in cui decidiamo di attivarci, di costruire iniziativa politica e quindi di mobilitarci. Provo ad andare per ordine per cercare appunto di dare un po' un filologico e spero di riuscire ad aggiungere qualcosa alle tantissime cose già dette che mi trovano assolutamente, come dire, d'accordo. Inizierei appunto, come dicevo, da questo scenario in cui ci troviamo immersi, uno scenario che vede la contrapposizione tra due grandi potenze imperialiste che di fatto si stanno spartendo un mercato economico in questo momento, un mercato energetico. Un mese e mezzo fa, grossomodo, c'è appunto la dichiarazione da parte della COP26, se non sbaglio è stata l'ultima, che definiva il nucleare e il gas energie di transizione, qualcosa di folle per chiunque abbia mai vagamente maneggiato il tema, perché il gas è un fossile, il gas ha un tasso di clima alterante altissimo, il nucleare ha dei rischi collegati allo smaltimento che non siamo ovviamente qui a distribuire, e fatalità, più o meno un mese e mezzo dopo, scoppia una guerra che in realtà ha al centro delle proprie motivazioni, al di là degli interessi geopolitici effettivamente storici, anche un elemento di interesse materiale, di interesse da parte del mercato. Si decide da chi sostanzialmente l'Europa deve comprare il gas, una forma appunto di energia che in realtà non ci serve, che non dovremmo in nessun modo essere costretti ad utilizzare, però appunto è questo che si decide, si valuta chi sia, chi debba essere il miglior referente. È chiaro che di fronte a un scenario di questo tipo, prendere posizione, schierarsi da un lato o dall'altro della barricata, se individuiamo nella barricata, diciamo, l'elemento bellico è impossibile, perché è ovvio che nessuno di noi possa schierare né dalla parte di Putin, né da quella della Nato. Tuttavia, credo che è un po' emergeva anche da quello che diceva Dario all'inizio, in questo momento la nostra posizione debba essere attivamente contro, cioè si deve passare dall'essere né con né con all'essere attivamente, proattivamente contro l'uno e contro l'altro. Non dobbiamo schierarci per forme nazionalismi da un lato, per delle pretese appunto che vengono avanzate su territori più o meno ritenuti propri per varie motivazioni storiche, che non dobbiamo sperare appunto in un'alzata di scudi, in una corsa alle armi da parte di paesi che adesso si danno disponibili a vendere armi e munizioni all'Ucraina e quant'altro. Cioè il sottrarsi appunto dal prendere un lato o l'altro per dire ancora una volta e ribadire che siamo contro qualunque logica di questo tipo. Io ringrazio Ruggero perché l'ha ricordato in apertura, ma il 2 marzo appunto questo mercoledì quando entreremo a Venezia e tra l'altro entremo a piazza San Marco. Questo segnale lo vogliamo dare insieme a tutte le migliaia, centinaia di migliaia di persone che stanno scendendo in piazza in tutto il mondo. Sono contenta anche che sia stato ricordato quello che sta succedendo in Russia. E a fronte di tutto questo credo che sia molto calzante ribadire ancora una volta trovato molto chiaro il legame appunto tra 25 e 26 in realtà. Esattamente come trovo chiaro il legame tra crisi climatica, estrattivismo e la guerra in corso. Nel senso che se l'estrattivismo è il suolo in cui affondano effettivamente le radici tutti i tipi di oppressioni che a diverso livello ogni persona subisce allo stesso modo quel terreno, quello quindi da giustizia climatica, deve essere il terreno su cui ne costruiamo dei semi di convergenza ancora una volta. A proposito di convergenza, e qui provo a riallacciarmi al secondo degli assi tematici che suggeriva Ruggero, io ricordo di aver ascoltato Dario in realtà per la prima volta diversi mesi fa, eravamo a Milano durante un climate camp in occasione della pre-cop 26 e ricordo di aver avuto una piccola epifania in quell'occasione in realtà, nel senso che ovviamente parlavamo di cambiamento climatico, di crisi climatiche e quant'altro, ci è arrivata appunto la testimonianza di questa esperienza di lotta e a un certo punto ho realizzato che in realtà quando si parla di automobile e si parla di tutto il discorso legato alle emissioni inquinanti del settore automobilistico, noi ci concentriamo tendenzialmente sul prodotto finale, su come l'automobile che qualcuno di noi possiede effettivamente emetta della CO2, quando in realtà la vera filiera inquinante è quella produttiva a monte, perché per costruire un pezzo di un'automobile sono necessari pezzi che provengono da una trentina di paesi diversi, che vengono trasportati ad esempio sulle navi mercantili che approdano anche qua a Porto Marghera, che viaggiano su gomma, che viaggiano in aria e quant'altro. Ecco questa cosa dico, effettivamente mi è sembrata scontata quando l'ho ascoltata, mi sono domandata perché non ci avessi pensato effettivamente prima, però è stata veramente rivelatoria o rivelatrice da un certo punto di vista e ancora di più mi ha convinto dell'esigenza appunto in realtà di trovare dei terreni su cui convergere, dei terreni su cui praticare e organizzarsi collettivamente. esperienze appunto di questo tipo in realtà non nascono dall'oggi, sono ovviamente, ne esistono da sempre e quella che attraverso io quotidianamente è decisamente un'esperienza al basso, appunto Ruggero mi presentava come parte dei centri sociali del nord-est che sono spazi autogestiti come questo, come tanti altri in tutto il Veneto, in tutta Italia come veniva detto, ma che in realtà hanno articolazioni molto più più ampie, più ramificate, più variate, sono tutte esperienze però che nascono dall'auto-organizzazione dal basso, che appunto non si pongono come obiettivo quello di sostituire dei servizi. Pochi giorni fa ero ospite della Caracola a Vicenza per intenderci a questa esperienza di un ambulatorio popolare appunto costruito dal basso appunto da chi ha praticato la professione medica e non solo, che non si pone come obiettivo quello di sostituirsi dal servizio sanitario pubblico, ammesso che pubblico lo si voglia effettivamente definire, ma si pongono l'obiettivo di creare una comunità attorno a dei servizi che devono essere garantiti e a partire da quello creare forme di comunità alternative e questo penso un po' uno degli elementi centrali che dobbiamo tenere presente quando parliamo di forme dell'organizzazione cioè il fatto che queste forme debbano effettivamente essere attraversabili, devono essere qualcosa di reale, devono essere totalmente svincolate da quelle che sono poi effettivamente le relazioni che invece ci impone il capitale. Il capitale per intenderci stabilisce quali siano e chi siano le zone di sacrificio, stabilisce che cosa sia sacrificabile, in nome di che cosa, quanto lo sia eccetera eccetera. In genere questo concetto lo applichiamo al sud globale e quant'altro, ma in realtà è presente in ciascun territorio, è il rapporto ad esempio tra centro e periferia, sono le linee di oppressione che dividono chi è di più e chi è di meno, chi è più ricco e chi lo è meno, chi è donna o chi è uomo, chi è soggettività non binaria. Ciascuno di questi corpi, ciascuno di questi territori ha delle gradualità e sono identificate appunto in una scala di valori di sacrificabilità. È allucinante, cioè anche tornando all'elemento guerra, è stato deciso che una parte al confine tra l'Unione Europea e la Russia fosse effettivamente sacrificabile, insomma, e quindi si potesse tranquillamente giocare a scacchi sull'Ucraina. E appunto in realtà anche da questo punto di vista cercare di costruire dei percorsi che tengano insieme diverse oppressioni è assolutamente fondamentale. Provo a passare velocemente al terzo e ultimo punto che invece è quello delle forme di mobilitazione. Mi piaceva molto il modo in cui hai descritto la sottrazione del concetto di vittoria, ci hanno rubato il concetto di vittoria. È la cosa che mi ripeto più o meno quotidianamente quando vedo ad esempio come viene gestito il greenwashing e non solo, come ad esempio le quote rosa sono un altro modello di questo tipo, ci dicono no no ma guarda in realtà abbiamo già provveduto a fare questo. C'è un modello economico che ha già coperto delle esigenze delle discriminazioni. Quando ci dicono che il gas, torna a ripetere, è una fonte di transizione, che possiamo stare tranquilli, che determinate istituzioni adesso devono necessariamente avere un certo numero appunto di figure femminili alla guida. Quando ci mettono le pubblicità in cui casualmente ci sono dei soggetti razzializzati, di fatto ci stanno dicendo ma guardate che voi avete già vinto, abbiamo capito qual è il problema che avete sollevato, non c'è problema di fare tanto scalpore, in realtà abbiamo già provveduto a tutto. E questo però che altro è se non un modo per smorzare quelle che invece sono le forme di mobilitazione? È esattamente un po' questa di esigenza che i meccanismi di questo tipo rispondono. E a partire appunto da questo vorrei suggerire alcuni spunti riguardo alle forme che le mobilitazioni possono assumere. Naturalmente stiamo parlando di esperienze di fabbrica, stiamo parlando di lotte effettivamente operai e quindi immediatamente il pensiero va alla pratica dello sciopero, che è una pratica storicamente ormai estremamente longeva, ma è una pratica che è stata in grado di essere assunta, di essere recepita e fatta propria anche da lotte che non sono lotte operai. Penso ormai allo sciopero femminista e transfeminista, ma penso anche giustamente allo sciopero per il clima, in cui ovviamente il rapporto di forza e le forze che vengono messe in campo rispondono a delle logiche diverse, ma l'idea è la stessa. Io mi sottraggo a qualcosa che ci si aspetta che io faccia per il bene e il profitto di qualcun altro e in questo modo cerco di scardinare quelle che sono le relazioni di forza. Credo che questo sia stato estremamente potente, lo è stato nel caso degli scioperi transfeministi e riguardiamo veramente al successo in una qualche misura di esperienze come Fridays for Future. Oltre a questo, credo che un po' uno degli elementi che dovremmo porci sia quello anche della radicalità delle pratiche, di fronte alla quale siamo interrogati sempre più urgentemente. Quanto è necessario oggigiorno avere delle pratiche, adottare delle pratiche radicali, essere in grado davvero di incidere e non venire effettivamente a patti? Credo che la situazione complessiva, generale, tra crisi climatica, crisi sociale e quant'altro ci imponga di non lasciare più spazio a nessuna forma di compromesso. Insieme a questo, credo che un altro concetto importante sia quello dell'irreversibilità delle pratiche. Molto spesso ci viene detto, penso soprattutto nel caso delle grandi opere o di altre cose, però in realtà il progetto c'è già, il primo mattone è già stato messo, ormai bisogna finire quello che è stato iniziato perché non è reversibile. Ebbene, se le grandi opere, ad esempio, non sono reversibili, allo stesso modo allora le nostre pratiche dovrebbero non esserlo. Quello che dobbiamo andare a costruire quando ci mobilitiamo dovrebbe essere definitivo, non dovrebbe dare la possibilità di tornare indietro, essere dimenticato, essere cancellato o, peggio, essere sussunto. Un altro concetto, invece, credo sia quello della replicabilità delle pratiche. Appunto, prima parlavo dello sciopero, di come sia stato possibile applicarlo a diversi settori. Credo che allo stesso modo dovremmo ambire appunto a creare delle forme di mobilitazione, a creare delle pratiche che non appartengano e che non siano attraversabili e attuabili soltanto da qualcuno, ma che uno degli obiettivi che dovremmo darci debba davvero essere quello di mettere chiunque in grado di replicarle. Ecco, e in realtà credo di aver terminato un po' quello che abbiamo immaginato di dire, quindi spero che ci siano tante domande. Grazie. Alla faccia del menuto che chiede, però che sentivo parla a Dario poi. Nel senso, volevo dire le parole anch'io perché prima sia Dario sia Anna Clara hanno ribadito il fatto che a noi non ci abbiano rubato la vittoria. Oltre a quello, penso di poter dire, anche non ci hanno levato la dignità. Quella dignità che da operai GKN prima del 9 di luglio avevamo imparato attraverso gli operai della TechSprint a Prato che lottavano per lavorare otto ore e cinque giorni e che siamo andati a trovare più volte e che ci hanno mostrato una dignità enorme, enorme. Io non so su questo come la pensi Dario, ma credo che essersi legati a un presidio del genere dove realmente 18 immigrati, perché di questo si tratta, che lottavano per un diritto acquisito negli anni e che venivano menati, lanciato acido, picchiati dalla polizia, cercati di investire addirittura, perché abbiamo anche assistito a scene da Far West, e che nessuno, quanto dico nessuno, considerava nemmeno lontanamente. Non ci passava nessuno dal presidio. Ci siamo passati noi molto spesso, prima del 9 luglio e dopo del 9 luglio. Ecco, questo è un qualcosa che ha aiutato noi a crescere tantissimo nella nostra lotta, la dignità che abbiamo imparato da questi operai, che insegnavano a noi cosa significa non avere niente, lavorare 12 ore al giorno per sette giorni a una paga da fame, mentre noi venivamo da un'azienda che aveva tutti i diritti, che aveva un buono stipendio, che molto probabilmente a tratti ha guardato anche, non tutti, però a grandi linee ha guardato anche a come era verde il proprio giardino, no? Perché alla fine, se si va a vedere anche bene, molto spesso non si guarda oltre il nostro cancello, perché si pensa tanto, noi si sta bene, perché guardare oltre a quel cancello? Invece noi l'abbiamo fatto spesso quello di guardare oltre quel cancello lì. I rapporti di forza in quel momento lì, l'essere andato in solidarietà a tutto quello che si muoveva sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale, ci è ritornato completamente indietro. E questo ha aiutato sia noi, sia tutto il territorio a crescere in maniera esponenziale rispetto a quella vertenza lì. E siamo cresciuti tanto. A me, se io parlo ora o Dario, nel 2018, quando il fondo Merros ha acquistato il GKN e gli avresti detto, ma sai che probabilmente ci tocca occupare il suo stabilimento, gestirlo, gestire la mensa, andare a giro per l'Italia, gli hai detto, Dario, ma te sei completamente fuori testa. No. E invece non solo abbiamo fatto questo, ma come diceva anche prima il compagno, abbiamo proposto, abbiamo le idee. Lo stesso che fanno gli studenti. Io siamo stati a Roma alla fine della tre giorni che hanno fatto loro e io pensavo di approcciare, ero stato in tante scuole, invitato anche da professori, non era mai successo che io vorrei entrassero addirittura a fare una lezione di educazione civica all'interno delle scuole. E io pensavo a queste persone, come persone che stavano lì a dire, si vuole occupare perché magari si fa lo spinellino durante l'ora o si passa la notte fuori da casa. Invece mi sono ritrovato persone veramente, veramente competenti, che non stanno ad aspettare che nessuno gli porti nulla, ma che propongano, che hanno idee, che hanno tutto quello per migliorare lo stato in cui vivono. E questa è una cosa importantissima. È importantissimo non solo ristabilire i rapporti di forza, ma avere l'idea su come fare e gestire completamente quello che noi andremo a fare. Noi lo sappiamo, nel nostro campo lo sappiamo, Friday for Future nel campo del clima lo sa sicuramente, gli studenti lo sanno. Quindi perché non unire insieme tutte queste forze che ora risultano, non dico sparpagliate, però un po' qua e là e cominciare a lavorare insieme per fare quella, fra virgolette, classe dirigente a cui andiamo, perché lo sappiamo fare e lo possiamo fare, lo dicevo prima nella logistica, hanno fatto una cosa grandissima, non hanno assolutamente bisogno di nessuno per poter gestire i magazzini, tanto più lì si va addirittura sotto forme di controllo, perché questi probabilmente sono pagati non tanto per gestire i magazzini, ma per andare a dare noia, a controllare quelli che sono contro, quelli che organizzano, quelli che volantinano, quelli che fanno, cioè è una forma di controllo da altri tempi, di lontana memoria. Per quanto riguarda la guerra, io mi sono abbattuto su un sito di Telegram che manda tutte le informazioni del caso dall'Ucraina, è compagnia bella. È forse una delle prime volte in cui viene, oltre le bombe di cui si parla, viene fuori proprio il discorso finanziario, no? Quello che si va a fare a livello finanziario nella guerra, no? A rispetto delle sanzioni, no? Si va a colpire i oligarchi, si va a colpire la borsa, cioè leggevo oggi di cali in borsa incredibili, la borsa Mosca che ha dovuto nemmeno riaprire, cioè una guerra prettamente finanziaria. E per questo sono d'accordo con lei quando dice che noi dobbiamo essere contro quella guerra, perché queste sono le stesse persone che chiudono le fabbriche, sono gli stessi fondi finanziari che vanno a fare guerre, che muovono denaro, che chiudono le fabbriche per i loro interessi e per il loro profitto. E guarda caso quando non ce la fanno più a risanare, chiudendo gli stabilimenti e mandando a casa gli operai, vanno a fare le guerre qua e cercando di guadagnare a nome del profitto. E per me questi sono gli stessi padroni che ci hanno chiuso e io contro questi padroni e sarò sempre. Io mi avvierei alle conclusioni, non so, Dario, se hai voglia di, visto che sono state dette tante cose, se hai voglia di magari, se avete voglia voi, dice Dario, giustamente, sensibile. Io c'ho voglia, per cui gli do il microfono. Grazie per la discussione. Io bandirei quando ci riferite, ci riferiamo a GKN, parole come vertenza ideale, vertenza esemplare. Noi siamo qua a rivendicare in realtà una parzialità, una debolezza, una fragilità, un metterci in discussione continuamente, perché crediamo che sia l'unico modo con cui possiamo andare avanti, con cui possiamo migliorarci. Così come noi siamo qua a proporci e a proporvi con il 26 marzo in qualche modo un nostro elemento centrale, già il fatto di proporre Firenze, ma vorremmo che fosse chiaro che non concepiamo questa nostra lotta come appunto un mettersi al centro, ma semmai suggeriamo un punto d'appoggio per appoggiare una leva e fare forza tutti insieme. Perché in realtà ci percepiamo come qualcosa, e vorremmo verificarlo insieme, come una parte di qualcosa che sta accadendo e che va ben oltre la singola vertenza e lo stiamo vedendo sui territori. Perché qualcosa sta accadendo nelle scuole con questo movimento studentesco, qualcosa sta accadendo nelle vertenze che noi incontriamo, nelle storie che raccogliamo, che a noi tolgono il fiato, come quella che ci è stata raccontata dai lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. L'altro giorno eravamo a Cosenza e sono venute delle studentesse di un liceo occupato da due settimane per una questione di molestie. È una vicenda che a me personalmente mi ha colpito tantissimo, non tanto per il fatto in sé, ma per come loro autonomamente e spontaneamente sono arrivati a collegare in un processo di convergenza il tema delle molestie al tema della privatizzazione della scuola e della gerarchia dentro la scuola. Perché tu, ovviamente, quando avviene una cosa come la molestia, di solito chi è che è a favore delle molestie? A parte il circo democratico, tutti condannano, magari viene sbattuto qualcuno in prima pagina, no. Mentre loro erano arrivati alla conclusione che la difficoltà che avevano avuto nel far venire fuori questi casi di molestie era il risultato della società patriarcale, ovviamente, che a sua volta si alimentava della gerarchizzazione che il preside manager ha portato all'interno della scuola, perché evidentemente si crea una gerarchia innecessaria, perché infatti rivendicavano l'abolizione proprio della figura del preside, il fatto che il preside non dovrebbe esistere, dovrebbe essere solo un segretario amministrativo che gestisce la scuola, che quindi è un ruolo gerarchico inutile, quando poi ti trovi a dover portare avanti una battaglia apparentemente totalmente diversa, il fatto che tu abbia un ruolo gerarchico, verticale, innecessario, diventa un limite alla tua battaglia. E questo lo spiegavano loro, perché io non avrei saputo spiegarlo con queste parole. Quindi che cosa sta accadendo nel Paese? Proviamo a mettere a verifica se tutto quello che noi stiamo vedendo è un miraggio, è qualcosa di ultraminoritario, o forse no, o forse sta accadendo a noi, sta accadendo qui e ora che si reapra una possibilità. Ovviamente sapendo che dobbiamo essere molto pazienti nella riapertura di questa possibilità, perché non c'è ancora un'esplosione di massa dietro l'angolo, e forse va bene così, forse va bene anche che ci riprendiamo i nostri tempi per ricostruire reti, relazioni e consapevolezze, perché qua c'è una questione di corpi, i corpi che occupano l'ospedale a Cariati, i corpi che occupano la GKN, i corpi dentro questo spazio, i corpi dell'8 marzo, e guarda caso una questione di corpi, perché tra noi e la delocalizzazione della fabbrica non c'era nient'altro, non c'era uno Stato, non c'era un governo, non c'era una legge, non c'erano solo i nostri corpi, e guarda caso proprio nel momento in cui la pandemia ha reso così immateriale i rapporti tra di noi, è una questione di corpi che attraverso i loro gesti ci ridanno credibilità per riappropriarci di parole apparentemente vecchie, parole partigiane che noi rivendichiamo come insorgiamo, ma anche di andare a peccare le loro parole, cioè di ribellarci al fatto che ci rubano le parole di bocca, ci rubano la parola vittoria, nazionalizzazione, transizione climatica, ce le rubano, se tu non hai i rapporti di forza per difenderle, e contemporaneamente noi abbiamo detto che ci vogliamo anche andare a riprendere le loro parole, per esempio io so che quando usiamo un termine come quello che abbiamo usato noi, classe dirigente, produttività, famiglia allargata, siamo su una china molto pericolosa, perché queste sono loro parole, non lo so io che usando il termine famiglia allargata utilizzo un meccanismo, una parola, la famiglia dove all'interno avvengono violenze eccetera, ma perché abbiamo usato quella parola? Perché lo dicevo prima, quando ti toccano in fabbrica, quando ti licenziano, ti viene da dire avete toccato la mia famiglia e poi ragioni e dici quant'è sbagliata questa frase, cioè perché difendere la mia famiglia lo posso fare in tanti modi, anche mettendolo nel culo al mio collega, scusate il francesismo e vendendomi al padrone è un modo per difendere la mia famiglia, tengo famiglia, invece se lo concepisci come una famiglia allargata, territoriale, dove la sua famiglia, la famiglia del precario dall'altra parte, le ragazze e ragazzi di Alitalia che ci sono venuti a trovare, fanno parte di un'unica famiglia allargata, io li vado anche a rubare una parola in un paese estremamente familistico e ribalto, il fatto che in realtà questo paese le distrugge, le disgrega la famiglia nel senso affettivo del termine, non nel senso oppressivo e monogamico, è un fatto di radicalità, cioè di capacità di andare alle radici dei problemi, anche nei gesti che compriamo, per cui sì gesti radicali, ma gesti radicali non disperati e minoritari nel senso che denotano frustrazione, ma gesti radicali nel senso che io attraverso quel gesto recupero credibilità rispetto alla mia comunità e quindi mi faccio anche maggioranza sociale, perché alla fine ha voglia di dire, se noi quel cancello non lo sfondavamo, quel 9 luglio, quel momento in cui l'abbiamo sfondato, tutto il resto, che poi è stato altrettanto importante, l'autogestione della fabbrica, i sette mesi, le parole d'ordine, il tenere botta, le trattative, non ci sarebbe stato, quello è il momento in cui tu acquisti quella credibilità che fa sì che tutto il resto, anche una parola come insorgiamo, possa avere un minimo di credibilità. E allora, così come un'altra parola di cui siamo voluti riappropriare è settore strategico, non si può chiudere l'automotive, è un settore strategico, no, per noi è strategico tutto ciò che è vita, è strategico prendere una nota e quindi allenarsi per prendere quella nota, per cui ad esempio uno dei primi settori a cui noi abbiamo guardato appena ci hanno chiuso sono stati i lavoratori e i lavoratrici dello spettacolo, perché erano stati quelli più devastati durante la pandemia e quindi anche quello è stato un elemento di convergenza, noi abbiamo avuto una campagna teatrale che è venuta e ha presidiato la fabbrica insieme a noi, ha intervistato i lavoratori e come elemento di convergenza ha partorito che c'è uno spettacolo teatrale che si chiama Il Capitale, che speriamo possa girare tutti i teatri di questo paese, soprattutto quelli occupati, dove gli attori sono operai GKN che attraverso la lotta sono diventati attori diretti da quella compagnia teatrale che insieme a noi ha occupato la fabbrica e quindi tutto si fonde e come abbiamo scritto non riusciamo più a vedere dove sono i confini, ma vorremmo solo capire dove è l'orizzonte e così come un'altra cosa importante, visto che si parla di corpi, è il prendersi cura l'uno dell'altro, perché quando poi sei in lotta non sei più autorizzato a non prenderti cura della persona che è di fianco e siccome l'ho detto, noi non siamo né super uomini né vertenze esemplari, ma siamo deboli, fragili, parziali, sessisti, razzisti e la nostra forza è ammettere di esserlo per capire che quello è il miglioramento su cui dobbiamo lavorare senza la convergenza con chi si occupa di cura, senza il lavoro su noi stessi, proprio perché il corpo è lo strumento della tua lotta devi lavorare su quello, sulla tua pazienza, sulla tua tolleranza, sulla tua profondità, sulla tua resistenza perfino, perfino sulla tua autodisciplina. Non devi anche entrare in quello che è l'elemento di cura reciproca. Una discussione che vorremmo fare con le compagnie e compagni che a differenza di noi appartengono integralmente al sindacalismo di base, anche se noi ci riteniamo altrettanto il sindacalismo conflittuale e classista, è per esempio come si sconfigge il burocratismo sindacale, perché spesso la discussione tra CGL sì, CGL no, che è una discussione legittima e che noi capiamo perfettamente, ci ha tolto un altro pezzo di discussione, cioè come si evita il burocratismo sindacale, perché in realtà il burocratismo sindacale spesso è rinato anche all'interno di sindacati cosiddetti di base, come risultato della pressione ideologica che l'avversario fa su di te, come risultato del fatto che la classe quando è a riposo ti chiede di occuparti della busta paga, di un livello istituzionale di sindacato che ti sussume, che ti tira dentro e finisci che alla fine, come dire, finisci per occuparti di una serie di questioni economiche della classe e perdi la capacità di elevare invece l'attività della classe verso il livello di cambiamento. Il collettivo di fabbriche e delegati di raccordo sono nati da questo ragionamento, dal tentativo di creare un sindacato rivendicativo, partecipativo e assemblare, che poi, lo ripeto, è l'unico modo, e vado verso la fine, per mettere a nudo il meccanismo capitalistico anche dall'interno, non va solo messo al nudo dall'interno, però riferendosi alla questione ambientale che citavi, noi senza l'elaborazione delle reti ambientaliste più radicali non sapremmo dove dirigere la riconversione della fabbrica anche se ce l'avessimo in mano e al contempo, senza il nostro occhio dall'interno su che cos'è la logistica, su che cos'è la produzione effettiva, noi riusciamo a trasmettere al movimento ambientalista questo semplice fatto, che l'accumulazione privata del capitale non è ecologica, non lo potrà mai essere, perché per arrivare a un mondo realmente ecosostenibile hai bisogno di pianificazione, hai bisogno di prevedere il fattore ambientale già all'inizio del fattore produttivo, mentre oggi noi tutti siamo impegnati purtroppo a rimediare i danni a valle quando il problema è a monte da ogni punto di vista. Quindi per terminare noi vi invitiamo a mandarci e a mandare verso il 26 marzo o voi stessi ad esprimere elementi di piattaforma, cioè la questione del caporalato, delle limitazioni che portano i CCNL al sindacalismo di base, quello che avete presentato come lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, il 18 marzo lo sciopero dell'ispettorato del lavoro, noi non li nomineremo, così come abbiamo chiesto per esempio ai compagni di Cosenza non solo di dire loro che il 26 marzo sarà una data contro la sorveglianza speciale, deve essere in bocca vostra, perché in bocca nostra perde credibilità, perde profondità e questo noi non ce lo possiamo permettere, quindi sarete voi a dire che il 26 è per questo, per altro e per tutto. Su una cosa vogliamo essere chiari però, il collettivo di fabbrica e il processo che si apre il 26, sperando che si apra, poi se non si aprirà era un tentativo doveroso, non sappiamo che altro avremmo potuto fare, lo spazio che si aprirà non c'è nessuno in questo momento che lo possa egemonizzare in maniera chiara e questo è positivo, è responsabilizzante però, perché quello spazio che noi andiamo a costruire ce lo dobbiamo coltivare e difendere tutti collettivamente in maniera capillare, radicale, ce lo dobbiamo difendere da personalismi, da individualismi, da frammentazione, da scontri necessari e quindi il nostro messaggio è anche di responsabilizzazione collettiva, il nostro insorgiamo è prima di tutto un plurale ed è una responsabilizzazione collettiva. Noi al massimo le 26 ci regaliamo un processo e un futuro non scritti, questo ci andiamo a regalare il 26 se ce la facciamo e quindi è tutto dopo la discussione, il collettivo di fabbrica inevitabilmente non ha la voglia, la possibilità, la volontà di determinare organicamente cosa avverrà dopo, è una debolezza potenzialmente ma è anche una forza, dipende da tutti come decidiamo di giocarcela. Bene, io ringrazio ovviamente Dario e Francesco, ringrazio Gianni, ringrazio Anna Clara e tutte le altre persone che sono intervenute, credo che abbiamo di fronte a noi comunque un mese molto ricco in cui, come dire, riuscire a costruire insieme convergenza e riuscire a costruire insieme anche una possibilità per insorgere, per usare le parole che appunto vengono dal collettivo di fabbrica. Ecco, io una delle prime volte che avevo sentito parlare, avevo una delle cose che avevo sentito dire era, noi tante volte facciamo delle assemblee, dei momenti rituali nei quali poi rischiamo tante volte di sbrodolare, di raccontarci quanto è cattivo il capitalismo. Ecco, io penso che appunto abbiamo di fronte a noi un mese e ovviamente anche oltre questo mese speriamo di regalarci anche tanto altro tempo nel quale poter combattere insieme. Io penso che sia arrivato il momento oltre ovviamente a meccanismi di costruzione di coscienza e anche di competenza, anche di veramente rimetterci in marcia, di riuscire anche a parlare con tante in tante e far sì che questo mese ci regali, come diceva appunto Dario prima, un futuro non scritto, un futuro possibilmente migliore e diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Grazie a tutti e a tutti.